Ciao, benvenuti e benvenute sul mio canale. Questo è un video semplicemente per lanciare la mia prima vera challenge su YouTube. Se vorrai seguirla partirà il 7 di febbraio e consisterà in 7 video per 7 giorni consecutivi di semplicemente solo 10 minuti per risvegliarsi. Quindi andrò a pubblicarli molto presto la mattina così appena sveglio e sveglia potrai dedicarti alla pratica. Ci saranno diversi focus ogni giorno, ogni mattina, ci saranno gli svegli con energia, gli svegli tranquilli, ci saranno delle meditazioni, ci saranno diverse sorprese. Sarà solo 10 minuti, se avrai voglia ti invito e ti lancio quest'altra sfida oltre alla sfida dei 7 giorni, anche quella di farti un video, un selfie, una foto, pubblicarla su Instagram e taggarmi per vedere quanto interesse ci sarà in questa challenge. Perché se funziona vorrei, mi piacerebbe tantissimo proporre altre challenge, magari uno al mese, così semplici, 10 minuti, 15 minuti di pratica proprio per aiutare chiunque a trovare almeno 10 minuti per se stessi. Quindi ci vediamo sul tappetino il 7 di febbraio. Grazie per aver seguito, a presto. Namaste.